Lo stop dei collegamenti marittimi con le isole Pelagie causato dai guasti alla motonave Sansovino ha innescato delle scaramucce tra i sindaci di Pantelleria e Lampedusa, rispettivamente Salvatore Gabriele Egino e Giusi Nicolini. Secondo l'amministrazione comunale dell'isola trapanese, l'interruzione momentanea del servizio con Lampedusa e Linosa avrebbe causato disagi alla sua comunità, in quanto la compagnia delle isole avrebbe dirottato il traghetto Novelli che copre la tratta tra panipantelleria verso le isole agrigentine. Il sindaco Nicolini, preso atto delle dichiarazioni del suo collega amministratore, lo invita a non ingaggiare inutili guerre tra poveri e unire le forze nel tentativo di risolvere le difficoltà. La catena di disservizi e la conseguente sospensione di pubblico servizio, dichiara Giusi Nicolini, ha avuto origine a causa di un guasto a uno dei motori della Sansovino. La stessa nave, causa avverse condizioni meteo-marine, ha aggiunto il sindaco di Lampedusa, aveva omesso la partenza per quattro giorni consecutivi e precedenti al guasto. A oggi, dichiara ancora Nicolini, non è stato comunicato al comune di Lampedusa e Linosa quando la compagnia delle isole sarà in grado di coprire la continuità territoriale. Per questo motivo, il primo cittadino interroga l'assessorato regionale ai trasporti, chiedendo una tempestiva risoluzione del problema e ancora l'intervento della regione sulla compagnia, affinché la stessa rispetti la convenzione di affidamento di pubblico servizio.